Grazie Presidente, vorrei sinteticamente leggere la parte dell'ordine del giorno in cui impegna il governo ad adottare ogni iniziativa o misura utile, anche legislativa, volta ad escludere che le disposizioni introdotte da provvedimento in esame, con riguardo in particolare alle condizioni richiamate in premessa, possono essere interpretate o tradursi in una violazione del diritto internazionale, constitutinario e pattizio. Cioè semplicemente si chiede al governo di adottare il buonsenso. Quindi è un ordine del giorno che sintetizzato chiede una domanda semplice al governo, ovvero si vuole adottare il buonsenso, questo è quello che noi chiediamo al governo e quindi chiediamo di rivedere il proprio parere. Grazie. Grazie a lei.